Non sono stati ancora pagati ai dipendenti comunali di Capodorlando gli stipendi di ottobre, il ritardo di alcuni giorni ed è certo poca cosa rispetto alle criticità dei mesi precedenti, quando erano state svariate le mensilità arretrate. La situazione si è normalizzata nel mese di settembre, quando sono stati pagati gli stipendi di settembre e maggio. Lo stipendio doveva essere pagato il 27. Non ci sono problemi particolari, siamo in un momento di estrema intensità perché entro il 25 novembre dovremmo presentare il piano di riequilibrio, quindi si tratta di un ritardo proprio dovuto agli impegni dell'ufficio ragioneria. In questi giorni sarà pagato, non vedo perché si debba fare tutto questo clamore e penso che c'è qualcuno che possibilmente cerchi di creare ulteriori pressioni sull'amministrazione perché magari si pensa che il 25 novembre finisce un periodo che ha avuto una sua valenza, cioè quello delle problematiche finanziarie e possibilmente crede che non ci siano altre cose da poter dire contro questa amministrazione che da sette anni fa grossi sacrifici. Per rimettere Capodorlando non dico in una posizione finanziaria tranquilla ma bensì con una programmazione tranquilla, una progettualità tranquilla però anche per i dipendenti, ma loro lo sanno perché ne abbiamo già parlato, nessun problema. Ci sono stati periodi in cui sono stati anche tre o quattro mesi e essere sette o otto giorni di ritardo non è assolutamente un problema.